E con questa ho raggiunto quota 1600 tentativi. Nulla, non succede nulla. Giuro che questa è l'ultima volta. Funziona! Funziona! No, non ce la fa, non ci riesco. I ritratti non fanno per me. No, no, Lisa, Lisa, tu sei meravigliosa, enigmatica. Appunto, dico, fa una cosa, fammi un bel sorriso. Un sorriso un po' troppo, forse. Hai visto? Un sono quadrogenica. Ma no, su, su, non dire così. Ascoltami, eh. Fai un bel respiro. Ecco, così. Perfetto. Non mamma, mamma. Non mamma, mamma. Lo sapevo. È pazza di me. Aia. E due. Curiosa coincidenza. E vabbè, e allora? C'è qualcuno che vuole provocarmi? Ma chi mi importa? E la mamma? Ho capito. La chiamerò gravità. Aia. Galilei Galileo, abbiuri tu la tua dottrina eretica, secondo cui lo sole è fisso e la terra muove attorno ad esso. Sì, sì, abbiuri. Eppur si muove. Che hai detto? Ma io ho detto... Io ti ho sentito proferire. E non me ne sono nemmeno accorto. Sì, è vero. Tu hai detto eppur si muove. No. Eresia! Ehhh, che esagerazione! Che hai detto? Niente. Sì, non parlare. Bravo. C'è Olivia. Sì, non parlare. C'è, non parlare sono here. O che erabook histo? Poi! Aia!